Cosa dicevamo oggi on the web, in rete letteralmente, la navigata in diretta in cui parliamo di agricoltura e cibo, come abbiamo detto nei titoli, di acqua, di questa nuova tecnica per rendere potabile l'acqua salata producendo anche elettricità, la scoperta di resti di palafitte abitate 3.500 anni fa nelle grotte di Pertuseo, letto svuotate d'acqua e parliamo di scienza, perché la Terra gira su se stessa, tutti interrogativi che sono apparsi sui media in questi giorni, scoperto anche un pianeta extrasolare, molto distante ma abitabile, perché è proprio simile alla Terra e poi parliamo di clima, abbiamo detto, del cambiamento indiscutibile, di chi non ci crede dai negazionisti, perché alla RAI per esempio hanno campeggiato alcuni sponsor che sono simbolo di quei combustibili fossili che invece sapevamo di doverci lasciare alle spalle per dare spazio alla transizione ecologica. Ma apriamo con questa prima notizia, con questo primo link, con la protesta dei trattori, è stato il segno questa protesta che poi si è un po' attenuata, sotto il quale si svolgerà sicuramente la campagna elettorale per le europee, una campagna attraversata dall'onda anti-ecologia. Se c'è una linea che collega la protesta dei trattori, i blocchi stradali nelle manifestazioni di questo giorno in mezzo a Europa, ed è la linea anti-ecologista che parte proprio dall'Inghilterra, come vediamo qui. Si potrebbe dire che c'è un'onda che attraverso molti paesi, che collega il presidente Milene in Argentina, Wilders in Olanda, i Fleximan che distruggono gli autovelox, le elezioni europee in arrivo, le nuove narrative del popolismo. E' la crisi di rigetto dell'ambientalismo, un'ondata di reazione speculare ai movimenti che cinque anni fa misero il clima in cima all'agenda globale, con i primi scioperi di Friday for Future, una reazione che spesso viene dalle catoierie più colpite dalla crisi come gli agricoltori. I toris, cioè i conservatori, abbiamo visto Boris Johnson poco fa, un tempo erano il partito conservatore più ecologista d'Europa, con la ULEZ, la Ultra Low Emission Zone, era una creatura proprio di Boris Johnson, quando era sindaco di Londra. Poi da primo ministro Johnson aveva dato al Regno Unito, ricordiamolo, obiettivi di riduzione delle emissioni più aggressivi di quelli tanto contestati all'Unione Europea. Ed è stato tre anni fa, e invece sembrano trenta, che Rishi Sunak, il nuovo premier, ha smantellato quelle policy, ha scatenato le trivelle nel mare del nord, ha posticipato il phase out dell'auto a benzina, facendo infuriare le case produttrici che avevano programmato per una data e dovevano lavorare per un'altra, ha cavalcato la protesta anti-ULEZ, cioè contro la zona a bassa emissione. L'idea di fondo era dare un nuovo nemico ai lettori stanchi, impoveriti e nervosi, l'ambientalista. E poi c'è stato un cambio di direzione, perché che cosa è successo nel frattempo? C'è stato un cambio di direzione dell'Unione Europea sugli OGM, per esempio, perché gli organismi geneticamente modificati, lo scrive Wired, diciamo si è cambiata idea, ecco sugli OGM, è la crisi delle siccità, e qui vedete Wired, da cui abbiamo tratto questa notizia che vi facciamo vedere, su cui vi invitiamo a navigare, perché in effetti lo scopo, l'obiettivo di fare on the web è proprio quello di indicarvi degli indirizzi sui quali voi stessi poi potete andare ad approfondire se vi interessa. Dicevamo, la crisi della siccità potrebbe spingere l'Unione Europea a rivedere le limitazioni sulle culture geneticamente modificate, il caldo e la siccità hanno avuto effetti devastanti anche sull'agricoltura europea. Vedete qui, sempre su Repubblica, che è il giornale che più dedica spazio ai problemi ambientalistici. La maggior parte dei campi del continente è rimasta a corto d'acqua e questo è stato a produrre raccolti inferiori alle attese. Per alcune culture il contrasto con il passato è netto. I raccolti di soie, per esempio, sono calati del 15% rispetto alla media degli ultimi 5 anni, mentre quelli di girasole sono inferiori dal 12%. Con le catene di approvvigionamento agricolo, scrive Repubblica, già sotto pressione a causa della guerra in Ucraina, la vulnerabilità del sistema alimentare europeo sembra essere emersa in tutta la loro forza. Alla luce del contesto attuale alcuni politici europei stanno iniziando a riconsiderare la storica opposizione dell'Unione Europea nei confronti di organismi geneticamente modificati e di editing genetico. E da luglio scorso Antonio Tajani aveva chiesto un allentamento delle regole che limitano la coltivazione e la vendita nell'UE di alcune varietà di culture create con nuova tecnica di editing genetico, come ad esempio la CRISPR. Le nuove tecnologie, passiamo all'altro argomento, le nuove tecnologie biotecnologie agricole che possono consentire la sperimentazione di piante più resistenti alla siccità e ai parassiti. Per modificare geneticamente le culture è necessario, spiegano gli scienziati che studiano queste cose, inserire nel DNA di una pianta materiale genetico proveniente da un altro organismo, solitamente un gene che rende la coltura, ecco qui dobbiamo fermarci perché siamo passati ad un altro argomento. Dicevamo che per via delle rigide regole dell'Unione Europea sugli OGM al momento solo due colture di questo tipo sono consentite in Europa, una sola delle quali il mais resistente agli insetti viene effettivamente coltivato all'interno dei confini europei. Negli Stati Uniti invece quasi il 90% dei campi di soia e di mais sono OGM, cioè geneticamente modificati. L'editing genetico è una tecnica distinta, anche più recente, che invece dell'inserimento di geni di specie diverse prevede la modifica diretta del genoma di un organismo. ma su questo argomento degli OGM dei prodotti geneticamente modificati, poi torneremo poi in seguito per dirvi anche che quelli vegetali sono come dire meno dannosi, meno invasivi degli OGM animali. E quindi passiamo ad un altro argomento, siamo al secondo tema di On The Web di oggi, l'acqua, l'acqua vista attraverso varie angolazioni. Ecco chi l'avrebbe mai detto? Che siamo il paese dell'acqua, l'Italia è il paese dell'acqua, secondo questo rapporto che vediamo qui di Huffington Post. La risorsa non ci manca anche se i cambiamenti climatici e la gestione non sempre corretta creano disagi. La nostra acqua è più sicura che in tantissimi altri luoghi del pianeta è ancora un'acqua democratica, a buon prezzo e l'utilizzo diventa via via più efficiente anche grazie alle nuove tecnologie. Una ragione in più per ospitare a Roma nel 2027, dicevamo il World Water Forum. La filiera dell'acqua in Italia è un pilastro fondamentale dell'economia che involge ben 26 settori economici e 74 sottosettori. Tra questi la gestione dell'acqua, le imprese agricole, le aziende manufatturie ad alta intensità idrica e il settore energetico giocano un ruolo cruciale. Il contributo economico della filiera dell'acqua ha generato nel 2022 un valore di oltre 365 miliardi di euro. E non mancano certamente problemi strutturali su cui è necessario intervenire. Il 60% dell'infrastruttura idrica italiana ha più di 30 anni, viene perso oltre il 41% dell'acqua in fase di distribuzione e il sistema recupera soltanto l'11% dell'acqua piovana a fronte di una disponibilità potenziale di 54 miliardi di metri cubi. L'85% della risorsa idrica prelevata in Italia proviene da acque sotterranee naturalmente protette e questo dato è notoriamente superiore alla media dell'Unione Europea, evidenziando l'impegno dell'Italia nel preservare le sue risorse idriche e garantire la loro qualità. L'Italia con il suo mix unico di storia, cultura e impegno per l'ambiente può essere uno dei leader del panorama mondiale per affrontare le questioni idriche. Stiamo vedendo poi un'altra notizia sull'acqua, il cui video state vedendo, è questa nuova tecnica per produrre acqua potabile dall'acqua salata, producendo nello stesso tempo energie. Vedete queste immagini straordinarie, è una notizia che abbiamo tratto da Repubblica, ovviamente noi andiamo sempre a trovare i video che si riferiscono alla notizia. Un gruppo di ricerca americano ha ottimizzato un procedimento per separare il sale dall'acqua marina e allo stesso tempo produce energia elettrica, come sta spiegando questo signore, immagazzinabile nelle batterie, come vedete. Sembra promettente questo studio condotto dai ricercatori della Tando School of Engineering nella New York University che hanno compiuto un importante passo avanti nel processo di desalinizzazione denominato redox flow o batteria flusso redox, una tecnica elettrochimica emergente che oltre a trasformare l'acqua di mare in acqua potabile, attenzione consente anche di immagazzinare l'energia rinnovabile prodotta dal flusso dell'acqua a prezzi accessibili. Qui vedete anche, se riuscite a vedere, questo è un filmato di YouTube che potete trovare appunto digitando la parola Why Salt Water. Diciamo che questa tecnica permette sia di usare energia elettrica come forza spingente per separare il sale dall'acqua che sfruttare l'energia chimica sprigionata in modo spontaneo dal mescolamento di due soluzioni e poi convertita in energia elettrica. Si sfrutta il mescolamento di due soluzioni d'acqua usando le membrane che separano gli ioni liberando l'energia chimica che ne scaturisce che può essere poi catturata e trasferita agli elettrodi della batteria ricaricabile. Il sistema a flusso redox, come si chiama, può essere usato sia per desalinizzare l'acqua che per produrre energia. E la, come dire, la meraviglia dell'acqua che è al centro appunto di questa nostra carrellata, questa navigata, è anche al centro di un'importante scoperta a Pertosa, qui in provincia di Salerno, nelle grotte di Pertosa a Ulette. Quindi passiamo alla notizia. Eccola qui, una notizia di Stile e Arte che dice appunto si svuota l'acqua della grotta in provincia di Salerno, archeologi studiano il misterioso villaggio Palafittizi, colo della oscurità, diciamo. Lo scrive appunto stileearte.it, questo affascinante complesso di cavità carsiche ubicato alle falde dei Monti Alburni, proprio qui in provincia di Salerno. Adesso poi facciamo vedere un bellissimo video di Italia 2 che abbiamo scelto per voi. Eccolo qui, che appunto dicevamo è stato al centro di un intervento di ricerca e documentazione speleo-archeologica realizzato grazie alla collaborazione tra la soprintendenza archeologica Bellearte e il paesaggio di Salerno e Avellino, la fondazione Mida, la società IREN ed il centro regionale di speleologia Enzo dei Medici. Ecco, svuotando l'acqua, come vedete da queste immagini, in un'area delle grotte è stato scoperto un singolare insediamento che in parte prendeva luce dall'apertura della grotta, ma che si sviluppava in buona parte nella oscurità. Qui gli uomini palafitticoli, diciamo, i cavernicoli vivevano sulle palafitte e disponivano di acqua corrente e l'indagine ha permesso il ritrovamento delle pianificazioni delle strutture, nonché il recupero di reperti. Il giocimento archeologico è di eccezionale importanza in quanto conserva, a caso unico in Europa, in ambiente sotterraneo, i resti di una palafitte di età protostorica di 3.500 anni fa. Le grotte di Pertosa, ho letto quindi, rappresentano una fonte straordinaria di informazioni scientifiche sulle antiche popolazioni della Valle del Tanagro, preservate eccezionalmente grazie all'ambiente carsico. E passiamo ad un altro argomento, cioè sempre per on the web, questa navigata che facciamo insieme con voi in diretta su internet, quindi presi tra i fogli di carta e la ricerca dei link da farvi vedere. Siamo alla scienza, la scienza anch'essa quindi al centro di questa nostra carrellata su internet, vedendo appunto l'articolo del pezzo su Passione e Astronomia, perché la Terra gira su se stesse. È girata molto, è circolata molto questa notizia, molto avvincente, affascinante, perché il giro continua da sempre, continua ancora oggi. Eccolo qui, e quindi Passione e Astronomia elenca appunto i motivi, quali sono le cause, tutto quello che c'è da sapere sulla rotazione terrestre. Spesso se lo chiedono anche i ragazzi a scuola, ma ce lo chiediamo anche molti di noi adulti. Ecco, per rispondere a questa domanda, ecco qui vediamo il video che abbiamo preparato, per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare indietro nel tempo, fino a 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando iniziò a formarsi il nostro pianeta. Il sistema sonare si è formato da una nube di gas, vedete da questo fumetto, chiamata nebulosa, all'interno della quale c'erano moltissime polvere e gas che poi si sono unite a causa della forza di gravità. In questo frangente polvere e gas si stavano già muovendo in circa, mentre tutto girava e si aggregava, gli oggetti iniziarono a ruotare più velocemente. Ma perché continua a girare la Terra? In teoria un oggetto rotante continua a girare per sempre a meno che non si aggiunga o si tolga energia. E sempre sulla scienza andiamo all'altra notizia, siamo verso le notizie finali, ecco la notizia del probabilmente roccioso, potenzialmente abitabile, la notizia di media-inef, il nuovo pianeta extrasolare, anche qui tante notizie su questo evento, la prima super terra scoperta nella zona abitabile della propria stile, questa è la notizia con cui il cacciatore di esopianeti della NASA, il telescopio TESS, inaugura il 2024. Quindi scoperto dagli scienziati dell'Università di Birmingham, si chiama TOI 715B, lo vedete in questo filmato che adesso vi facciamo vedere, questa ricostruzione bellissima che è la ricostruzione della NASA, pubblicata da Luminary Cosmos, ed è praticamente, dunque dicevamo, dobbiamo un attimo allargare l'immagine, siamo tornati all'inizio che non ci interessa, dunque vediamo un po', se riusciamo a recuperarla, no, l'abbiamo persa, per cui dobbiamo restare sulla notizia. Ecco dicevamo, il pianeta si trova vicino alla Sostella, dalla quale dista poco più di 12 milioni di chilometri, TOI 715B mantiene temperature adatte a sostenere eventualmente la vita, in questo perciò lo abbiamo ritenuto interessante, al momento soltanto un candidato pianeta. Ecco, e poi andando a chiudere, passiamo all'acqua, all'acqua, pochi secondi per chiedere a tutti, sempre, tutte le volte che ci vediamo, di non sprecare acqua, perché i pozzi ruscelli e sorgenti stanno diminuendo costantemente in tutto il mondo, perché estraiamo acqua, ecco qui vi facciamola vedere, la versione ovviamente in italiano, estraiamo acqua più velecemente di quanto viene sostituita dalle precedibili ad azione, lo studio è della Università di Santa Barbara in California, pubblicato su Nature. E concludiamo con il clima, con il clima vedete qui questa foto straordinaria che ha vinto un grande premio, una foto pubblicata da Open ma anche da Repubblica, dal Sole 24 Ore, questa foto chiamata il letto di ghiaccio, è un orso polare addormentato su un iceberg alla deriva, un'immagine che evoca in tutti noi un senso di tristezza, anche se si pensa alla decisione demente, criminale, delinquenziale di abbattere gli orsi in Trentino dalle stesse persone che avevano ripopolato la regione, vergognatevi invece di gestire diversamente gli animali con cui avete ripopolato le vostre regioni, c'è in fondo tristezza, ma al tempo stesso mette in guardia dagli effetti indiscutibilmente scientifici dei cambiamenti climatici, negli ultimi decenni siamo noi, l'umanità a provocare, è una foto che si è giudicata il premio Wildlife Photographer of the Year, un tema però, attenzione, negato e siamo all'ultima notizia, noi abbiamo seguito e ci è molto piaciuto il Sanremo di quest'anno, è stata una cosa straordinaria, però è un tema che proprio la RAI ha negato, un tema dell'ambientalismo, un tema del clima, dove nonostante l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi siano stati inseriti, lo ricordate, ve lo diciamo sempre, nell'articolo 9 della nostra Costituzione, tra gli sponsor vi sono stati un'azienda che ha nei combustibili fossili la sua principale fonte di ricavo, ecco una brutta immagine avete dato, cari amici della RAI e anche voi del governo di centrodestra che siete anche voi un po' distratti sull'ambiente e anche una compagnia di crociera che certamente non usa combustibili o energie rinnovabili che sono stati tra gli sponsor della RAI e noi personalmente, è una nostra opinione ovviamente, non ci sono piaciuti, ma infatti ci stiamo chiedendo, non stiamo parlando da anni di transizione ecologica, ci siamo sbagliati, forse abbiamo sentito male, qualcuno, qualcosa, qualche governo insomma vuole farci fare marcia indietro, non abbiamo capito, per 10-15 anni stiamo parlando di transizione ecologica ma ci siamo improvvisamente distratti, stiamo cambiando direzione.